d'altro lato però gli stessi giornali e la televisione danno grande enfasi alle violenze sulle donne e al nuovo delitto che ora di cui si parla tanto che è definito femminicidio dimenticando che anche in questo caso ciò che viene alla superficie è la condizione di subordinazione prodotto di questa stessa società infatti se non si hanno pari diritti nel modo del lavoro se si è ridotto e arrampo di mero oggetto del desiderio se è più difficile per noi costruire un'intensa e gratificante vita sociale è inevitabile che si venga poi considerate una semplice appartenenza di chi ha un più forte ruolo sociale e se siamo